Ciao ragazzi bentornati sul canale, oggi un video in cui vi mostro qual è la mia tecnica per organizzare la valigia, che sia una valigia di una settimana, di due settimane o per il weekend, come organizzo appunto il trolley. Ho trovato delle cose che mi hanno semplificato l'organizzazione soprattutto della valigia a livello di spazio e di conservare i vestiti in maniera molto molto ordinata. Io ho pensato di condividerlo con voi, vi lascerò nell'info box tutti i link diretti agli articoli che sono riuscite a trovare ancora disponibili online, perché molte cose le ho acquistate su Amazon e quindi vi metto direttamente il link così potete andare a vedere e ve lo lascio nell'info box, quindi cliccate in basso e trovate tutto. Allora, io sto organizzando la valigia per partire il weekend, quindi sto via una notte e due giorni, in realtà non mi serve tantissimo, però lo sappiamo, io almeno devo sempre avere una cosa in più, due cose in più, perché vige sempre i non si sa mai, quindi il trolley che uso per viaggiare per pochi giorni è questo qua. In realtà questo non sarà oggetto, lo vedete? Sì, eccolo, non sarà oggetto del video perché questo è un trolley vecchissimo, non so neanche dove, tra l'altro non l'ho neanche comprato io perché l'ho rubato a casa dei miei, l'ho chiesto in prestito una volta, lì non è più tornato e quindi per Usuka Pion è diventato mio, no scherzo, quindi non saprei dirvi dove appunto lo potete trovare, però come vedete all'interno è semplicissimo, è un trolley da 48 ore, tre giorni, la cosa comoda che mi piace molto è che è appunto diviso in due scomparti, quindi ha uno spazio dove si possono tenere, che si può chiudere con una cerniera, quindi si tengono le cose un po' più compresse e un altro spazio semplicissimo dove è insomma comune a tutte le valigie, ma la cosa geniale che ho acquistato su Amazon sono questi set, questi vari set di buste che adesso vi faccio vedere, le cercavo già da un po' perché guardando comunque i vari video su come organizzare la valigia eccetera eccetera le vedevo spesso utilizzare, vedevo appunto molte ragazze che le utilizzavano, ho provato anche la tecnica dell'arrotola tutto, fai tipo la valigia con sushi di vestiti però non è, cioè mi viene bene una volta su tre, perdo la pazienza mi viene male, un po' mi conoscete e quindi questi qui sono la soluzione migliore, che cosa ho acquistato, allora la prima cosa che ho acquistato sono dei beauty trasparenti, questo è un set di tre, ce n'è uno più grande con il manico che però adesso ho di là perché ci ho messo tutti i solari ed è nella borsa mare, mentre questi due sono quelli che tengo in valigia, uno lo utilizzo per i prodotti per il corpo, quindi bagnoschiuma, shampoo eccetera eccetera, questo qui se dovessi prendere l'aereo lo utilizzerai come porta contenitore per il bagaglio a mano, altrimenti ci metto i pennelli del trucco perché non mi va che sporchi il beauty, il beauty appunto, allora intanto ve le faccio vedere tutte così, queste sono le combinazioni che ho acquistato io, ho scelto questa fantasia più che altro perché era l'unica disponibile per tutti gli articoli che ho acquistato, perché sono tre pezzi separati e l'unica fantasia che era appunto abbinabile era questa con questo azzurro petrolio spento triste, però vabbè, comunque su Amazon le trovate di tutti i colori, varie fantasie, le trovate anche tinta unita, quindi comunque trovate quello che vi pare. Ho acquistato per prima cosa un beauty, finalmente ho trovato questo genere di beauty, questo è un beauty come vedete rettangolare, voi lo aprite e da una parte ha questi scompartimenti dove io andrò a mettere il makeup e c'è questo staccabile, questo divisorio staccabile dove si possono mettere i pennelli, ma io in realtà non ci metto i pennelli perché non mi va che il pennello sporchi poi tutto, non mi piace e lo uso semplicemente come divisorio e questo spazio abbastanza grande perché vedete è abbastanza capiente dove metto tutta la skincare viso, dalla detersione, quindi l'acqua micellare, il tonico eccetera, la crema, il siero e il contornocchi anche perché se parto per due notti, quattro notti o comunque anche una settimana cerco di non portarmi via tutto quello che uso nel mio bagno la sera. Poi l'altra cosa che ho acquistato è questo, questo è un porta scarpe, come vedete è abbastanza capiente e ha la capienza di saper infilarci un paio di sneakers oppure adesso che è estate ci sono anche due o tre sandaletti, questo è il primo contenitore, poi qui c'è un altro spazio per un'altra scarpa, in totale questa scatola contiene tre scarpe però appunto se avete le sandaletti in estate, almeno cinque si e poi un'altra un altro spazio qui con la retina. L'ultima cosa che ho acquistato e quella più grande è un set di buste per i vestiti, appunto per mettere dentro tutti i vestiti. Io quando viaggio penso in base agli outfit, nel senso che quando decido che cosa portare faccio varie pilette tipo giorno X, giorno Y, creo varie combinazioni già pronte, quindi poi le metto via tutte insieme. Avevo fatto così anche a Cuba, non avevo usato questi perché ancora non li avevo acquistati ma avevo usato dei semplici sacchetti, quelli bianchi, le dust bag delle scarpe che possono essere utilizzati anche quelli perché li avevo usati finora, mi sono sempre trovata bene. Per farvi capire adesso ve ne prendo uno e vi faccio vedere. Per intenderci le dust bag sono queste, cioè questo genere di sacchettino, ecco potete utilizzarlo tranquillamente. E quindi in ogni sacchetto mettevo un giorno, cioè un outfit. Ragionando così riesco a evitare di portare più cose perché tipo se dovessi scegliere ok che maglie porto io ve ne porterei tipo tre, il triplo di quelle che mi servono. Invece ragionando così riesco a schematizzare un pochino gli spazi. Questo qui, come vi dicevo, è appunto, sono i sacchetti per contenere i vestiti. Allora c'è questo grande che vedete qui e poi all'interno dovrebbero essere sei pezzi se non ricordo bene, comunque adesso ve li faccio vedere. C'è una misura leggermente più piccola, sempre rettangolare, una misura più piccola ancora, come vedete hanno la retina davanti in modo che davanti sia trasparente quindi riesco a vedere che cosa c'è dentro e poi il cubotto. Quindi tre fatti così, grande, medio e piccolo. Un porta scarpe perché c'è anche la pochettina per la scarpa che una volta che si apre si espande in larghezza, anche se io sinceramente non la utilizzerò questa per le scarpe, adesso vediamo, forse ci metterò i vestiti, i costumi quest'estate. E poi ci sono tre sacchetti fatti così, uno, due e tre. Adesso vi faccio vedere come praticamente la assemblo. credo. Grazie a tutti. 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 Vi ricordo che c'è tutto scritto nell'info box. Un bacione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.